Le Padre è una gara che possiamo innanzitutto definire un po' incredibile, surreale per tutto quello che è accaduto tra munizioni e espulsioni, non si era messa bene in avvio, poi siete riusciti a riprenderla con semplicità si sapeva l'Interreggio era una formazione che sicuramente poteva dare problemi e così è stato L'organico dell'Interreggio sicuramente non è inferiore al nostro, lo dice anche quello che stanno facendo in questo giro nel ritorno, conosciamo anche bene alcuni giocatori e loro, quindi a qualcuno ha giocato anche in Serie A però la mia squadra ha fatto 5 palle gol nel primo tempo, secondo me ha giocato una grandissima partita sotto di 1-0 non si è buttata giù, sono stati veramente bravissimi ragazzi a non scomporsi a continuare a giocare, grandissima partita contro una grande squadra, partita vinta alla grande meritatamente Viste anche come sono arrivate le reti nel secondo tempo, sono stati decisivi anche quei cambi? Ma sì, questo è un gruppo che ha capito cosa si deve fare già da un po' di tempo Chi subentra dà una grossa mano, quindi siamo contentissimi, trascorreremo sicuramente una Pasqua felice abbiamo un'ottima classifica con una salvezza raggiunta già 10 giornate dal termine siamo in piena corsa playoff, chiedere più di questa a questa squadra non si può, quindi ripeto Sono strafelice per loro, soprattutto per i ragazzi perché anche oggi hanno dimostrato ancora una volta una grandissima voglia di vincere e di fare risultato Dalla mia posizione potrei dire che ci potrebbe pure stare quell'espulsione, dalla mia postazione poi ho sentito il ragazzo e mi dice che lui non ha toccato l'avversario, ma in questi casi bisogna rivedere un po' le immagini secondo me, però quello che mi preme sottolineare è che la mia squadra probabilmente non meritava questa sconfitta non meritava sicuramente questo risultato che ci analizza eccessivamente il risultato che è venuto fuori, secondo me, per alcuni episodi che bisogna rivedere che sono stati in questo momento discutibili e che probabilmente hanno portato al nervosismo di alcuni miei giocatori vedi il primo gol segnato dal Chiedi, vedi la seconda rete se è stata vissiata o meno dal fuorigioco iniziale, sì, nella prima punizione bisogna ripeterli sicuramente sono stati degli episodi discutibili e non condividibili da parte dei miei giocatori riguardo a quello che era stata la decisione dell'arbitro e pertanto c'è stato questo eccessivo nervosismo dovuto non sicuramente perché è una nostra caratteristica ma dovuto perché noi, d'altra parte, mi pare che per larga parte della partita, anche 10 contro 11 non abbiamo dato mai segnale di essere nervosi, abbastanza agonisticamente ci siamo e questo mi pare che sia giusto perché probabilmente non avessimo messo questa verbia agonistica che comunque ci contraddistingue oggi per il Chiedi sarebbe stato facile fare un boccone dell'interreggio perché senza nulla togliere al Chiedi ci mancherebbe altro il Chiedi è un'ottima squadra, meritevoli del posto che occupa in classifica composta da elementi importanti, però è chiaro, nell'analizzare questa partita anch'io sono molto condizionato da quello che è accaduto in campo è il cane che si morde la coda bisogna vedere fino a che punto ci siamo comportati così perché è nella nostra natura oppure perché ci sono state delle provocazioni